ci sono alcuni punteggi che non meritano commenti o forse diciamo così è inutile commentare d'altronde la domanda è semplice cosa si vuole aggiungere dopo un successo per 17 a 2 già è proprio così la polisportiva dopo le sette reti rifilate a rottaie domenica scorsa esagera all'ombra del Vesuvio rifilandone ben 17 al uomo a Napoli che nulla ha potuto contro lo strapotere di Maria Giovanna Tempesta e compagne il match in pratica è durato solo i primissimi minuti perché poi quando le lioncelle hanno accelerato la contesa non è stata praticamente più tale troppo forte il bitonto per il Napoli e nel divertimento generale sorridono in modo particolare Brenda Moreira sei reti Resia Fontela cinque marcature due squilli per Valeria Valenzano uno a testa per Marfil Enrico Filomena Ottmani e Alessandra Mazzaro sei punti su sei in classifica e bitonto già solo in testa alla classifica domenica primo sconto importante derby contro il Molfetta in un polo Borsellino che purtroppo dopo il dpcm di ieri dovrà essere completamente vuoto